Benvenuti alla Tomasi Outlet, sono Renato e oggi vi presento le vetture in promozione all inclusive con passaggio, tagliando, bollo e furto incendio in omaggio. Scopriamole insieme. Questa Volkswagen Touareg 3000 V6 245 CV automatica del 2012 con circa 100.000 km equipaggiata con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fendi nebbia, cerchi da 17, clima automatico B-Zona, radio cd da screen a colori come il computer di bordo. Può essere tua a 340 euro al mese, anticipo zero. Questa Renault Clio Sporter 1.2 benzina nel 2017 con circa 30.000 km equipaggiata con luci diurni a LED, climatizzatore, barre sul tetto cromate, bluetooth e attacco AUX USB. Questa vettura può essere tua a 206 euro al mese, anticipo zero. Questa Mini Countryman 2000 SD All4 143 CV fine 2011 con circa 110.000 km è equipaggiata con fare lo Xeno, cerchi in lega bruniti del 18, interni parzamenti in pelle sportivi, climatizzatore automatico, cruise control. Può essere tua a 276 euro al mese, sempre anticipo zero. Per avere tutte le informazioni sulla nostra promozione All Inclusive, inviaci un messaggio o commenta il video. Ti aspettiamo in concessionaria!